ciao bambini questa è la nostra esperienza relativa alla conoscenza dell'arte dell'arcimboldo nelle scuole i bambini degli anni year 3, 4, 5 e 6 hanno lavorato in italiano per conoscere l'artista arcimboldo e poi si sono messi in gioco vi piacciono i loro lavori abbiamo provato a creare delle figure e delle immagini seguendo l'arte dell'arcimboldo e abbiamo utilizzato il vocabolario italiano che conosciamo che bravi anche i bambini dell'year 1 hanno voluto studiare l'arcimboldo con le loro insegnanti di classe hanno colorato la faccia dell'arcimboldo bellissima bravissimi hanno realizzato dei collage con le parti di alcune immagini fantastico hanno anche realizzato delle opere artistiche con foglie e frutti olturnali hanno anche utilizzato il cibo per realizzare i visi e i volti che bello ci piace l'arte dell'arcimboldo bravissimi bambini bravissimi maestri ciao ciao arrivederci